Ha ribadito la ferma determinazione nella salvaguardia dei 700 posti di lavoro il ministro del lavoro Giuliano Poletti dopo un incontro con i sindacati territoriali di Marche e Umbria sulla vicenda della JMP Industries legata alle attività rilevate dall'ex Antonio Merloni. Poletti era a Fabriano insieme alla collega di governo ministro dello sviluppo economico Guidi per partecipare all'iniziativa dedicata agli investimenti straordinari in Italia di Indesit. Un piano questo che secondo il governatore delle Marche Spacca rappresenta soprattutto in un momento difficile un segno di speranza per il rafforzamento delle opportunità di occupazione di questo territorio. A margine dell'iniziativa dunque il ministro Poletti ha avuto un incontro con i sindacati per l'Umbria c'erano Simone Pampanelli della FIOM, Adolfo Pierotti della FIM e Daniele Brizzi della Wilm che li hanno ribadito come la JMP solo sulla carta attualmente dia lavoro a 700 lavoratori dell'ex Antonio Merloni perché di fatto il piano industriale non sta trovando applicazione. Prima di tutto i sindacati hanno chiesto l'intervento di un'autorità ai massimi livelli capace di mettere insieme tutte le parti in gioco e per superare l'impasse serve un atto del governo in grado di chiarire definitivamente la questione partendo dal futuro dei 700 lavoratori. Sul tavolo i sindacati hanno messo anche il futuro dell'accordo di programma sull'area di crisi dell'ex Antonio Merloni che fino ad ora è stato sottolineato non è stato efficace. È una situazione molto complessa detto il ministro perché abbiamo un intervento del tribunale, ci sono sentenze, abbiamo un intreccio complesso di problemi. Comunque garantisce il titolare del di Castero del lavoro questo tema è puntualmente presidiato con il ministro dello sviluppo economico stiamo verificando la possibilità e la modalità per far partire e concretizzare l'accordo che era stato fatto. Soddisfatti FIOM e FIM e WIM per l'interessamento garantito dal ministro.